Ciao, siamo arrivati all'hotel Vedic di Santa Caterina Val Fulva, tutto attrezzato per deposito bici e giri mountain bike. Oggi abbiamo intenzione di prendere la cabinovia e di salire al Sunny Valley per poi far lavare di Rezzalo. Dicono che sia una cosa bellissima, purtroppo davano tempo bellissimo ma ci sono nuvole e fa anche abbastanza freddo, ma noi non demordiamo, vediamo arriveremo su per giù verso Uzza e poi risaliremo verso il fiume. Ciao! 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 E io sono andato a vuoto i nostri eroi ritrovarono la metta mia! Sì, 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 sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti